Oh, give me a home, where the love for love from, where the dear and the envelope play. Eccola, ancora là sta. Piace di spostarsi, tocca a noi, non è possibile che queste due ore rappresano loro. Dalle 12, non lo so. Non è necessario. Chiama loro. Dai, vai, ora, chiama loro. La regola è che loro devono stare avanti e basta. Ma cerchiamo almeno di passare questo turno. Ehi! Ehi! Ciao! 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 Saluta! Una è mia moglie e l'altra è la mia amante. Stavo dicendo la stessa cosa io. No, anche tu... No, però tu prima! No! E' la stessa cosa tu hai detto... No, hai detto prima, poi! Ehi! No, hai detto prima, poi! Ehi! Ehi! No, no! No! No, no! Anche tu! No! No, no! Anche tu! Grazie a tutti.